E ragazzi, come va? Io sono Feri Niki Io sono Stef, che stai giocare a Minecraft E benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft in cui io e Stef torneremo a sfidarci Questa volta con ben due eserciti Io ovviamente quello di diamante e ovviamente ancora di più Stef quello di terra Da, non sono felicissimo però signor Maialino, lei è fissata con i soldi Le ho dovuto lasciare il diamante La prossima sfida se ci sarà io avrò il blocco più bello È già deciso, Feri mi dispiace, funziona così Comunque come puoi notare Capitan Jeff è già imbricchialito Sta già urlando, sta già urlando Gli ho spiegato cosa dobbiamo fare quindi è già impazzito Praticamente funziona così Noi abbiamo due ceste pieni di soldati, di terra e di diamanti Ma dopodiché la cosa particolare è che avremo anche blocchi di terra e di diamante Per costruire il nostro campo di battaglia In questo modo potremo fare fortezze, torri, mura Potremo fare qualsiasi cosa per dare vantaggio al nostro esercito contro quello del nemico E dimostrare qual è il blocco più forte Quindi qual è l'esercito più forte Feri sei pronta? Sto già per ucciderti, ma se ti attacco Secondo te il signor Maierino ti fa sparire con i suoi poteri o cosa succede? Purtroppo sì Quindi non farlo, ok? Allora fallo stare zitto, Stef Non posso decidere, lo Capitan Jeff parla da solo Feri non ci posso fare nulla Allora abbandonalo Ma sei pazza, non lo farò mai Allora Capitan Jeff sto un attimo qua Io inizio a prendermi un pochino di esercito In modo tale da averne un pochino già da schierare E dopodiché vado ovviamente di blocchi Io inizio a prendere i blocchi Vabbè ovviamente prenditi anche l'armatura Che non si sa mai che magari qualcuno ti dà un colpo Qualcuno ha qualche problema Ti conviene iniziare a metterti l'armatura bella bella Ok Questa è sempre pronta E ci prendiamo un po' di blocchi Mi hai messo anche la mia spada, Stef Sì ma non la puoi usare Sei un po' azzardato Perché mi hai messo in una cesta la mia spada? Non puoi usarla Eh, non è una bella cosa di fare attenzione Allora io ho deciso che prima costruisco e poi metto l'esercito Ah sì? Sì Completamente Io invece mi divido un pochino Faccio un po' e un po' e un po' e un po' e un po' Perché non so bene che fare Ma fregare io inizio Ciao Ok Allora vediamo un pochino Stavo ragionando che se noi facciamo una roba Così Che poi è difficilissimo Infatti io non mi faccio tutto, 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 tutto Perché altrimenti ci sto qua a 20.000 anni Ferre ricordi che tu non hai un piccone Perché mi sono dimenticato di dartelo Quindi se sbagli a mettere un blocco Eh, ho già sbagliato un botto E rimangono lì Però meglio Non voglio la costruzione troppo lineare Perché comunque i blocchi danno sempre fastidio Ok Anche quelli che stanno in mezzo Ok, va bene, va bene, va bene, va bene Ho sbagliato di nuovo Allora uno, due, tre, quattro Secondo me all'incirca questa è la larghezza giusta E qui noi Capitan Jeff Stef, stai calmo Smetti di urlare Non c'è bisogno tutto il tempo Non c'è bisogno Fidati di me Allora, praticamente l'idea cos'è Ecco, devi fare una sorta di cosa Ok Ok, non posso dire Le tattiche che poi Qua c'è qualcuno che ascolta C'è qualcuno che ascolta le mie super tattiche Lo sanno tutti Che Stef ce le ha migliori Almeno in quello Poi nella battaglia perderà Ma finché si tratta di tattica Uh, bello quello che stai facendo tu però Ma io sto facendo a caso Cioè, non ho ancora ben deciso Sarà che il diamante fa un bel effetto sempre La terra fa sempre un brutto effetto Però sembra comunque figo Ci sta Eh, sto cercando di fare più che altro Dei blocchi iniziali Che comunque ostacolano il passaggio Dei tre soldati Capisci? E che quindi un pochettino li rallentano Ok Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta E per ora vado così Poi penso mi farò Forse una mini costruzione Magari per vedere tutto dall'alto Non lo so, ora vedo Perché dipende che i blocchi Beh, considera che non ho detto che armi abbiamo Ma abbiamo il moschetto Che abbiamo già avuto modo di provare In un altro video Appunto Ok E poi abbiamo Ognuna testa un'arma a milì Quindi praticamente Comunque c'è la possibilità di sfruttare Il fatto di stare a distanza Quindi Diciamo che è una torretta Diciamo di avvistamento Per poter sparare da lontano Secondo me Ha il suo senso Ha il suo perché Io ho quasi finito la mia prima muraglia Sono soddisfatto Perché secondo me Darà un bel vantaggio al mio esercito E poi dai blocchi Ne abbiamo a bicep Sì Cioè basta Puoi stare tranquillo Poi mettere tutto quello che vuoi Allora E infatti ci vado abbondante Facciamo così Perfetto Non è sagerare a fare muraglie cinesi Però Steph Eh, fatti gli affari tuoi Eh dai Abbiamo un toto di tempo Abbiamo un toto di tempo A testa si fa quello che si vuole Se faccio in tempo Tu stai facendo un acquedotto A livello estetico Tu sei un acquedotto Soprattutto di faccia A livello La c'entra Era un insulto gratuito E bisognava coglierlo al volo Steph Capisco Capisco Devo un attimo Mangiarmi qualche bistecca E dato che voglio far scena Io inizio a mettere un po' di esercito Così a Fere viene un po' di paura Guardateli Ma a chi viene paura? Oh yes Che ti stai già facendo addosso Steph Manca abbiamo iniziato Oh yes Guardateli Guardateli Dimmi che non fanno paura Eh Ditemi che non vi fanno paura I soldati di terra Sembrano davvero timorosi Ok Devo metterne davvero 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 tanti Fere Io avrei paura al posto tuo No per niente Io avrei paura al posto tuo Oh mamma mia iniziano a far paura i tuoi Devo essere sincero Fai bene Steph Fai bene Eh ma Steph Ha preparato tattiche comunque interessanti Non sottovalutare la terra Fere Allora il mio è una sorta di Non saprei come chiamarlo Ho fatto una sorta di casetta al centro Ok E poi ho messo un sacco di blocchi Che ostacolano Quindi come se fossero una sorta di labirinto Ma non è che ho costruito un labirinto vero e proprio E poi in mezzo ci ho messo tutti i miei soldati Che comunque se qualcuno dei tuoi finisce lì in mezzo Tecnicamente verrà Abbiamo fatto delle cose molto simili cara Quindi Ah Al posto tuo sarei anche preoccupato di questa cosa Un po' triste Al posto tuo sarei preoccupato Vabbè Tanto sembrano completamente diversi A toccare il mio fano schif Sì dai I miei poi sono belli Belli da vedere Steph a differenza dei tuoi Infatti io non la vorrei la terra Non è che sto cercando di dire che la terra è meglio del diamante Niente che ci provo No meno male che non ci provi Non c'è speranza Allora io penso che Finisco questi soldati che ho nell'inventario Ok E poi probabilmente me li tengo da mettere durante la battaglia Sai com'è se qualcosa va male Se qualcosa ti rendi conto che non sta andando come Poter fare delle tattiche in tempo reale Infatti secondo me può essere fondamentale per la vittoria Infatti anche io ho già in mente di farlo Ma non quanto te cara Non quanto te Perché io ho già pensato delle cose interessanti Sono abbastanza sicuro della mia tattica Quindi mi voglio lasciare davvero Scusami Stavo facendo affogare un tipo dentro la terra Ma è stato tristissimo Stef Ma perché? Come avete capito Consolini Questo è un po' il mio obiettivo Ok ci siamo capiti tutti L'abbiamo capito tutti Cosa intendo? Ci siamo capiti alla grande Arma uno Io sto iniziando ad armarmi Stef Ok Capitan Jeff stai lì Io mi sa che mi lascio questi di No Facciamo così Ma scusa di boomerang me ne hai messo solo uno? Sì perché si rompe subito E mi sa che monouso è Davvero Cioè non so se lo devi riacchiappare Nel video io ricordo che l'avamo usato un sacco di volte Aspetta fammi vedere Non vorrei dire scemenze Ma sono quasi No sembra che cada Sì mi sto provando a tirarlo a casaccio Sì e tipo se sbagli e non colpisci nulla Cade per terra e lo devi recuperare Se invece colpisci ti torna pure indietro Ok? Ok Quindi uno basta e avanza E poi soprattutto il moschetto con due stack da 64 di colpi No certo Sarà l'arma più importante Oltre al fatto che hai visto che belascia che ti ho dato Nel frattempo che tu parli Sì è bellissima È bellissima Non ho preso la mia spada L'ho lasciata per ora nella Beh per ora Ma guarda che non la puoi toccare Fretto ho messo lì giusto per farti felice No È troppo forte Se le cose si vanno male Io faccio un buco nella tua piattaforma E vinco No 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 Non è legale in nessun modo Allora vado alla cesta E prendo tutto l'equipaggiamento E sono praticamente pronto anche io Quindi devo prendermi la carne Tutta questa bella roba La mia spada anche io ovviamente non la prendo Mi mangio una bistecchina Perché ho visto che avevo fame Mi metto la mazza come prima cosa Il moschetto come seconda Le munizioni non mi serve averle in barra Quindi non me le tengo Poi mi lascio 64 blocchi E qua voglio l'esercito In modo tale da poterlo evocare costantemente Poi ovviamente tutto il resto dell'esercito Qua nell'inventario Altri due stack di blocchi Che fanno comodo Abbiamo capito però Qui bisogna iniziare E io ti dico Ma tu ti sei fatto una torre Cosa? Ti sei fatto una torre? Sì ho anche una torre Posso spacciare dall'alto il tuo posto? Beh un pochino guarda Un po' è bello Sto saltando lo vedo È bello Ho fatto un buon lavoro Questa è la mia arma La mia mazza fortissima Poi ho ovviamente il moschetto Il boomerang Sto aspettando solo te Ho preso le armi Ho un po' di paura Ma credo che siamo pronti Fere Io sono curiosa Sono curiosa di vedere come andrà Oh può essere un fallimento Può essere che farà tutto schifo Però sono curiosa L'abbiamo preparato per così tanto tempo Dai Allora Nel momento in cui premerò un tasto Ok Tutto partirà Ok Sei sicura di voler andare? Sì vai Non hai paura Fere? No per niente vai Allora tre Ho sbagliato Ecco L'Arian Uno Steve Larian Due Uno Ok Eccoli Eccoli Oh mamma mia Oh mamma mia Io cosa faccio? Io cosa faccio? Io sparo Ma non è che prendo un mio Oh cavolo Non vorrei prendere i miei No è difficile Prendi questo Uh che tiri il boomerang a me Disgraziato Mi hai fatto partire il mio Non so dove è finito Oh cavolo Ho perso anche il mio No Perché sono tutti di diamante qui sotto? Perché stanno vincendo? Sai che cosa ho trovato? Ahah Il tuo boomerang Cavolo chi è che mi sta dando colpi? Andatevene No non mi picchiate Non mi picchiate Ok Sono morti No 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 Guarda come voglio attaccare Steph Andatevi i prodi soldati No 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 Dove è il boomerang? Devo correre indietro Andate all'attacco voi Mi serve una mano Ok 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 L'unica cosa che devo fare adesso È salire lì Lasciatemi in pace Oh quanti siete Perché mi stanno Assaltando In così tanti Porca miseria Diamanti maledetti Diamanti Ci tengo a dire che i soldati Hanno esattamente la stessa Identica potenza Cavolo Vieni qua bella Vieni qua che mi stavi cercando Ti ho colpita? No li ho colpiti col boomerang Difendetemi Difendetemi Sto buttando soldati al volo Per difendermi Mi prodi Oh mamma mia Quanti sono Steph Perché sono tutti qua? Mi sa che ho fatto vincere i miei Fere Da quello che vedo dire Che i miei sono Particolarmente in vantaggio Come hai fatto a farli vincere? È perché li ho posizionati meglio di te Non è vero Ma i miei sono tutti dalla tua parte A guardarti Dovete venire da questa Dovete difendere a me Ok Io li sto sparando col fucile Qui Questi Dovete picchiare quelli Giratevi Steph Sono stupidi eh Ce l'hanno con me Fere Sono stupidi Ce l'hanno con me Sono davvero stupidi Però ti giuro Non riesco a stenderli col mio fucile No io sono morta Cioè sono totalmente morta Non ho fatto in tempo a mettermi Dov'è la mia barra? Ho bisogno di essere difeso Vai soldatino Soldatino? È vero Quelli che metto dopo sono un po' inutili Ma per che rimangono feli? Ah no Eccolo 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 Il mio partito Grande 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 Ne metto altri due Difendetimi Difendetimi Grandissimi Sto cercando di recuperare quelli che avevo in barra Accidenti Ok ok Mangio un po' di carne Stiamo vincendo Capitan Jeff Stiamo vincendo noi Hai visto che la terra è meglio del diamante? Andiamo Fanno schifo avere anche questo Ah ma fai ancora un bel po' di esercito allora Io sai che faccio Ma ne vado qua Dove? E a me non mi uccideranno mai No Capitan Jeff Ho perso Capitan Jeff E a me non mi uccideranno mai Perché Ne hai così tanti Parca miseria Pensavo fossi messa peggio Useremo il mio boomerang fortissimo Guardate quanti ne ho colpito una sola volta Se torno anche indietro è fantastico Capitan Jeff vieni qui Io ho perso tutte le mie armi Steph in giro Non so dove Infatti io ho il tuo boomerang Aiuto Ma come siamo messi? Perché io non vedo più nessuno Cioè sono morti tutti i miei? Sì C'è un tuo soldato di terra qui sotto Che mi vuole uccidere Però io mi sono fatto una torre in alto E poi quelli che hai appena ucciso tu E ce ne sono due miei qui Che non stanno facendo nulla Anzi tre ne vedo E tu non hai più nessuno? No ne ho tre in giro Sì E basta? Ne ho No in barra non ne ho più Perché ne vedo qualcuno Non li ho recuperati Però non si contano Ce ne sono tre Tre contro uno Ah ma tu ti sei fatto un pilastro così E come speri di vincere su di me? Non so Non ho più le armi Esercito Difendetemi Sto sperando di riuscire a correre Ecco vai tu Dammi l'arma Ok Mi raccomando Un altro Pronti a difendermi Pronti a difendermi Cavolo mi servono le armi Ok Ok lascia Ho trovato Quello era fortissimo Ok Dai Steph Stavo uccidendo il tuo Il tuo esercito è morto Però non puoi uccidere a me Certo che posso Sai che faccio? Pere Cosa? Non mi hai fatto arrabbiare Pere cosa stai facendo? Aiuto Perché sono così forti? Se ti picchio Secondo me il signor maierino ti attacca Quindi se riesco a darti Ma non ti attacca Ma perché non ti attacca? Non è giusto Ti dovrebbe attaccare Comunque tu sono tutti morti Ma non è vero Ce li ho tutti qui Guardali Guarda quanti sono Non è vero Ho vinto io Non hai vinto tu Il tuo campo è totalmente invaso Guarda Guarda quanti sono Guarda quanti ne ho Guarda 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 Però non è giusto Io speravo il signor maierino Ma non ha fatto nulla Beh Niente Capitan Jeff Quindi è giusto così No No Io dovevo avere il signor maierino Accidenti Oh ma Che cavolo Che cavolo Un intruso Uccidettelo Bravissimi Ok Manca soltanto Fere A questo punto Fere Battene Porca miseria Ti ho mancata Dove corri? Ma perché la manco? Questo fucile fa schifo Ti ho presa È certo Perché mi stavo facendo la torre Comunque fa schifo Basta Non faremo mai più gli eserciti Basta Sono rotta le scatole Non faremo più gli eserciti